Si avvicina ad 1 l'RT in Abruzzo. L'indice che misura la capacità e la velocità di trasmissione da uomo a uomo del virus al 24 novembre si è attestato in Abruzzo all'1,06% rispetto ad una media nazionale che è dell'1,03. L'Abruzzo, nonostante la zona rossa però, continua ad essere tra le regioni con indice sopra ad 1 assieme a Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Molise, provincia autonoma di Bolzano, Sicilia, Toscana, Veneto. Le regioni con RT inferiore ad 1 invece sono Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Umbra e Valle d'Aosta. Sebbene dunque ci sia stato un netto calo dell'RT, la settimana scorsa era l'1,32, l'Abruzzo, sempre stando ai dati arrivati alla cabina di regia ministeriale, resta fuori dai parametri d'allarme del 30% di occupazione delle terapie intensive e del 40% dei posti letti internistici. Infatti al 24 novembre l'occupazione dei reparti covid era al 50% e quella delle terapie intensive al 39%. Numeri dunque che restano preoccupanti e non allentano la pressione sui nosocomi perché fanno il paio anche con i nuovi positivi. Oggi sono 510 di età compresa tra gli 11 mesi e i 95 anni. I tamponi analizzati sono 4195 per una percentuale di contagi identificati pari al 12,15%. Scendono lentamente i pazienti ricoverati, 689 in totale, meno 5 rispetto a ieri. Stazionario il numero delle persone in terapia intensiva sono 74. 16.798 più 232 rispetto a ieri sono invece in isolamento domiciliare. Crescono le guarigioni 8.097 più 267 rispetto a ieri. Il bilancio dei pazienti deceduti purtroppo ne registra altri 17 e sale a 1868 dietro a compresa fra i 61 e i 95 anni ma 12 però fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Gli attualmente positivi dunque sono 17.561 con un aumento di 227 unità rispetto a ieri. Dopo alcuni giorni di tregua in cui il contagio aveva colpito la costa e il pescarese torna a prevalere la provincia dell'Aquila nella mappa del contagio e lei la più colpita con 258 nuovi casi mentre fra le città Pescara resta sempre la più contagiata.